Siamo usciti dalla crisi, l'Italia, ma non solo l'Italia, che rappresenta, come voi potete ben immaginare, un piccolo segmento nella grande economia mondiale. L'Italia e non solo l'Italia sono fuori del tunnel ed è un momento particolare per l'economia perché è soprattutto un momento di confronto e di studio e tutti gli esperti si misurano, fanno la loro diagnosi, qualcuno è più ottimista, qualche altro invece avverte che questa ripresa non è strutturale, bisogna andare con i piedi di piume. A noi per saperne di più, per dirvi che cosa è successo nel periodo in cui non abbiamo come dire trasmesso perché siamo stati in ferie, ci affidiamo al nostro consueto e preparatissimo esperto che ci conduce lungo i sentieri dell'economia non solo italiana ma internazionale. Dino Sorgonà. Dino, che cosa è successo di rilevante in questo periodo? Allora, in questo periodo sono successe molte cose di rilevanti come all'Ambrosetti hanno messo in evidenza. Innanzitutto la crisi peggiore del dopoguerra è alle spalle e non solo per l'Italia, ma per tutte le economie avanzate, che invece si contrappone a questo miglioramento dell'economia una situazione globale, strategica e politica invece molto più complicata. L'Europa si è rafforzata in reazione alla Brexit e all'elezione di Trump, ma per il mondo anglosassone, ad esempio, si sono complicate le cose in Gran Bretagna, si sono complicate le riforme strutturali. Negli Stati Uniti, mentre le economie e la finanza marciano bene, divergono sempre più dalla politica, vittima anche di rigurgiti di razzismo. E l'altra cosa, la grande novità è la Cina che si offre come leader mondiale e mediatore delle questioni complesse nel mondo, cosa che prima era funzione tipica degli Stati Uniti. Questo, diciamo, è il panorama globale. Ti volevo chiedere una cosa. Un appuntamento molto importante nel periodo in cui noi non trasmettevamo è stato quello nell'Uonghi, in America, dove erano presenti Draghi, se non sbaglio, è la Yellen della Federa del Euro. Bene, che cosa è venuto fuori da questo summit a grandissimo livello? A te, c'è commentato poi? Allora, l'attenzione sia dei banchieri che degli economisti era puntato sul fatto se Draghi o la Presidente della Federa del Servo americana avessero fatto scenno al drenaggio di liquidità immessa nel mercato e a un possibile, ai tempi, di rialzo del costo del denaro, cioè dei tassi di interesse. Ma sia la Yellen che Draghi si sono tenuti un po' a distanti da questa questione, tanto più che un mese fa Draghi era stato mal capito e c'erano stati problemi sul mercato. Quali sono stati però i temi affrontati? Innanzitutto la Yellen, su cui tra l'altro Draghi ha posto anche il suo consenso, innanzitutto il tema della cooperazione economica e l'importanza delle regole post in essere dopo la crisi per la stabilità del sistema economico finanziario, perché quale motivo? Per solidificare la crescita e scacciare la possibilità di spettri futuri di nuova crisi, regole che però Trump vorrebbe cancellare e la Yellen su questo, pur essendo in scadenza perché il 3 febbraio prossimo dovrebbero rinnovargli o non la Presidenza, ha detto attenzione, sembrano lontani gli spettri di crisi, ma sono sempre in agguato, non è un buon momento per regole permissive e addirittura, ha aggiunto, sono inopportune. Bene, bene. Draghi da parte sua invece ha detto, ha puntato il dito sulla cooperazione, bisogna aprire l'economia creando reti di protezione contro squilibri e spereguazioni, per quale motivo? Perché sì, non sorgano i protezionismi. Senti Lino, ti volevo dire, un altro appuntamento è finito due giorni fa, un altro giorno, ed è il forum Ambrosetti, tradizionale incontro che si tiene a Cernobbio. Io non voglio parlare, come dire, della presentazione di aspiranti a primi ministri tipo Di Maio, Salvini e roba del genere, non mi interessa particolarmente. Ecco, il convegno si svolge a porte chiuse, ma tu certamente qualche cosa in più saprai. Che cosa è emesso di sostanziale da questo incontro di Cernobbio? Allora, lo studio Ambrosetti che si svolge quasi all'autunno, proprio alla vigilia della presentazione della legge di stabilità italiana, quest'anno non ha parlato solo di problemi italiani, perché chi stava lì voleva sentire anche qualcosa di quello che succede nel mondo. E il punto più importante è stata che cosa succederà dell'Europa attuale. Andremo verso un rafforzamento dell'Europa o una disgregazione dell'Europa? Non solo dell'Europa, dell'Europa. Tant'è vero che un ministro francese dell'economia ha rilanciato di nuovo la prospettiva di un ministro dell'economia europeo, sulla quale Paduan, il nostro ministro, non si è detto in disaccordo, ma che ci vuole pensare, perché vuole sapere quali poteri dare a questo ministro dell'economia. Questo è stato uno dei punti. Un altro dei punti importante è stata la discussione sull'Africa, l'Africa che in questo momento è oggetto di fortissimo interesse da parte sia della Cina che degli Stati Uniti, mentre l'Europa lavora ai margini e invece col problema dell'immigrazione è ridiventata un elemento fondamentale non solo per il rilancio dell'economia europea, ma anche perché è in Africa che sorgeranno problemi in prospettiva e nel Mediterraneo. L'altro problema è l'Italia. Allora, che cosa è successo? Cosa ha detto agli imprenditori? Attenzione, la crisi peggiore è passata, l'hanno detto sia Gentiloni che Paduan, ma siamoci attenti, abbiamo rispettato le regole europee, ma le dobbiamo ridiscutere queste regole europee, perché non tutte le cose hanno funzionato. Seconda cosa, dobbiamo mettere in atto una legge di stabilità che stenga conto del debito pubblico, però che in favore dei giovani e che riduca le disuguaglianze sociali più acute. Benissimo, grazie per questa panoramica e riprendiamo, come si può dire, il nostro cammino a commento dei fatti di economia e ci sentiamo probabilmente giovedì. Ciao e grazie. Ciao, grazie per questo.